Il premio Borsellino sul tavolo del prossimo Consiglio regionale per il riconoscimento istituzionale avanzato con una proposta di legge, nato nel 1992 dalla volontà di Antonino Caponnetto e di Rita Borsellino, che ne furono presidenti fino al 2001. Come ha accolto questa notizia? Beh, anche con un po' di commozione, perché ovviamente, vista la mia età, il premio Borsellino è una parte importante della mia vita, 30 anni, naturalmente gli ho dedicato tempo, gli ho dedicato molta passione, molto amore, adesso che diventa legge regionale penso che posso dire passo il testimone ad altri. E possiamo dire che è un premio che ha fatto la storia e che resterà nella storia? Beh, a questo punto lo possiamo dire, premio Flaiano, premio Silone e premio Borsellino. Visibilmente emozionato, Leonodaria, ringraziato, il consigliere Mauro Febo, il presidente del Consiglio regionale e Lorenzo Sospiri, che hanno partecipato alla presentazione del calendario degli eventi. 42 incontri spalmati su tutto il territorio regionale, decisamente un programma ricco, ma anche di grande qualità, con l'autista di Giovanni Falcone, i preti antica morra, testimoni di giustizia, prefetti, poliziotti, ma anche avvocati, tanti magistrati. Per questa trentunesima edizione. Voglio ricordare che gli appuntamenti principali all'auditorio Flaiano di Pescara saranno, grazie a Rete 8, saranno sempre in diretta, oltre che tutti in streaming. E tra gli appuntamenti da non perdere, quello del 23 marzo, giornata del ricordo dei caduti per mafia, con l'intervento di Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone, scampato all'attentato di Capaci. Giornata sulla Costituzione, giornata per le donne, siamo partiti il 27 di gennaio con la giornata della Shoah, ricorderemo le giornate mondiali dell'ambiente e dell'acqua, naturalmente è un programma particolarmente ricco, vi prego di seguirci. Un momento unico della storia di Pescara dell'intera regione, ha rimarcato il primo cittadino Carlo Masci, che oggi ha ribadito l'esigenza di parlare alle nuove generazioni. Tutte le info degli eventi sul sito premioborsellino.it